Per prima cosa un grande piacere e anche una piccola sorpresa. Ho dedicato tanti anni a occuparmi di intermediazione, ho la piacere e la fortuna di lavorare con gli agenti, con le banche, con i brokers, con i diversi modi di fare il più bel lavoro del mondo, che è quello di prenderci cura degli interessi delle famiglie e delle imprese in Italia. Bellissimo stare con voi, bellissimo festeggiare con Marcella e Enrico questa serata memorabile.